Sesto appuntamento stagionale e primo lirico per la compagnia teatrale diretta da Alessandro Mazzocchetti. L'opera scritta dall'allora diciottenne Gioacchino Rossini, ovvero la cambiale di matrimonio, verrà riproposta in chiave moderna dal direttore Alessandro Mazzocchetti con la regia di Davide Kerstic all'interno del Città Sant'Angelo Music Festival. Cast giovane con allievi del Conservatorio Luisa D'Annunzio, tantissime presenze, a corse sinora nella cittadina pescarese e connubio felice tra arte, musica e teatro. Ce ne parla il direttore d'orchestra Alessandro Mazzocchetti. Noi questa stagione 2022 l'abbiamo inaugurata a gennaio e da allora non ci siamo mai fermati. Questo è il sesto appuntamento della stagione ed è l'unico titolo lirico all'interno del nostro cartellone, appunto la cambiale di matrimonio di Rossini, che è una farsa, una piccola opera che Rossini scrive giovanissimo, appena diciottenne. Quello che vedranno gli spettatori a Città Sant'Angelo, allora noi intanto siamo sul palcoscenico proprio del teatro, quindi quello che vedete è una piccolissima parte della scenografia. Sul palco vedrete innanzitutto un cast giovane, di giovani e giovanissimi, perché appunto è un'opera che Rossini compone, che aveva appena 18 anni, e quindi a questa freschezza nella scrittura corrisponde anche una freschezza vocale. Quindi gli interpreti, abbiamo due alunne delle classi di canto del Conservatorio di Pescara, nel ruolo di Fanny Jessica Ricci e nel ruolo di Clarina Serena Marrancone. Per il padrone di casa, Tobia Mill, invece abbiamo Daniele Dinunzio, per Sluck, il pretendente americano di Fanny, abbiamo Niccolo Pelusi, nel ruolo di Norton, del maggiordomo di casa, abbiamo Angelo Parisi, e nel ruolo dell'amante, dell'innamorato, Edoardo, abbiamo Rocco D'Aurelio. Quindi questo è il cast che il pubblico potrà apprezzare in teatro. La compagina orchestrale, invece, l'orchestra del Città Sant'Angelo Music Festival, è una compagina che ormai è nata qualche anno fa, sei anni fa, con la prima edizione appunto del festival, e che quest'anno si cimenta con l'opera lirica appunto. Abbiamo fatto un lavoro con il regista Davide Kerstic di quest'opera mesi fa, e abbiamo deciso di riambientare ai tempi nostri quest'opera, quindi è un'opera che vedrete attualizzata, questo per accentuare una serie di tematiche e di sfumature che sono presenti nell'opera e che, secondo noi, portate ai nostri giorni, riescono ad arrivare in maniera più diretta e più sentita al pubblico. È un'opera divertente, divertentissima in alcuni punti, i punti di assieme, i terzetti, i quartetti, sono veramente dei momenti di grande comicità, ma che lasciano comunque una vena di riflessione alla fine.